allora siamo nuovamente in diretta avviato il nostro secondo streaming siamo nuovamente in diretta sul canale youtube di telecom e nel frattempo che i partecipanti io ho fatto partire il mio cronometro si aggancino approfitto subito nuovamente per ringraziare l'iniziativa operazione di sorgimento digitale e tutti i suoi partner tecnologici tra cui google sisco e hp huawei zte che ci stanno dando l'opportunità di essere virtualmente vicini durante queste settimane vi ricordo che ci incontreremo tutti i mercoledì dalle 11 alle 12 fino al 27 maggio del 2020 vi faccio un piccolo riassunto su come si svolgerà lo streaming di oggi ma soprattutto come vorremmo procedesse lo streaming di oggi voi tutti e prendo il mio cellulare in mano sapete che sono rimasto traumatizzato dall'esordio della volta scorsa vero prima sessione rulli di tamburi squilli di trombe ed io in pratica che ho fatto l'imitazione di un pesce pensate il mio trauma ma soprattutto quello del mio cellulare che nel giro di 20 secondi ha ricevuto tante di quelle notifiche che mi ha detto io vado offline arrangiati in pratica è stato come trovarsi in cima alla scalinata di sanremo e un attimo dopo vederla no dal dal basso sotto sopra vediamo se passa la slide seguente sì questa volta però mi sono organizzato ed ho chiamato rinforzi diciamo così che forse l'audio si sente anche meglio in questo caso qui con il microfono quindi il primo che ha risposto è stato il golem di ferro che oltre a portarmi un fiorellino e mentre lanciava in aria un paio di zombie mi ha suggerito di organizzarmi anche in maniera analogica pertanto potrei continuare anche senza audio certo lo streaming in questo caso andrebbe leggermente per le lunghe ma sono quasi sicuro che riusciremo a finire prima della sessione di pomeriggio con il maestro stefano mancuso oggi alle 17 il pianeta delle piante il suo stream quindi seguite anche quello stream mi raccomando e comunque a conti fatti e qui incrocio le dita poteva andare peggio il giorno dopo è saltata la luce da me per due ore proprio dalle 11 come trovarsi per esempio al buio con un acciarino minecraft in mano sopra una piramide di tnt insomma ci andata bene a proposito di piramidi forse è il caso di andare avanti in attesa appunto che le notifiche sono solo quattro minuti passati vi raggiungano come si svolge l'incontro di oggi dopo la fase di avvio andremo a fare visita ovviamente al nostro museo della scuola minecraft vi avevo lasciato la volta scorsa con delle sfide di costruzione vedremo se qualcuno le ha raccolte poi proveremo a costruire una macchina del tempo che nel caso funzionasse ci dovrebbe portare nel cuore delle attività minecraft di oggi vi lancerò delle sfide nuovamente di costruzione che chi vuole può raccogliere e può farmi avere perfetto prima di passare però alla schermata successiva ci tenevo a precisare che nessuno zombie è stato maltrattato durante la realizzazione di queste foto slide 2 per gli adulti e quindi insegnanti e genitori in ascolto mi occupo di videogiochi in contesti educativi e cerco di stimolare i ragazzi nell'acquisire e migliorare le loro capacità attraverso i videogiochi i videogiochi sono degli strumenti sicuramente interattivi che mettono i giocatori in condizione di decidere e controllare la propria interazione ed esperienza di gioco cos'è il videogioco se non una serie di problemi complessi ambientati in scenari storici di fantasia moderni che non aspettano altro che essere affrontati analizzati possibilmente anche risolti dal giocatore di turno la possibilità di imparare da queste sfide proposte nei videogiochi è solo uno dei motivi per cui i giochi hanno un tale potenziale come strumento per l'apprendimento i bambini sono fortemente concentrati nel raggiungere l'obiettivo dettato dal gioco stesso perseverano nel trovare delle soluzioni che che conducono al successo proprio del risolutivo del del gioco e i bambini imparano dall'errore appena compiuto vediamo se passa la slide succede perfetto per i ragazzi in ascolto lavoro tantissimo con minecraft il videogioco più venduto al mondo un videogioco che riesce a mettere al centro del gioco stesso proprio il giocatore e la sua capacità di ragionare ed essere creativo diamo supporto alle scuole per realizzare progetti nella scuola con minecraft portiamo portiamo minecraft in contesti museali abbiamo creato per esempio un mondo minecraft anche per una esposizione dedicata a giochi tenuta alla triennale di milano portiamo minecraft nelle aziende che ci chiedono di fare imparare con minecraft i figli dei propri dipendenti e poi abbiamo il nostro canale youtube basta digitare a scuola con minecraft per venire per trovarci li troverei troverete tutorial pratici come per esempio come si costruisce una porta automatica nascosta eccetera a scuola con minecraft il canale youtube slide successiva qualcuno si ricorda le bandiere costruite la volta scorsa allora per ragazzi ed adulti in in ascolto la sessione scorsa vi ho raccontato del progetto raffaello in minecraft oggi vi voglio parlare di quello avviato per l'istituto luce cine città questa è l'entrata degli maggio dell'anno scorso ero a los angeles per un evento dedicato a minecraft in cui sono stato invitato a partecipare ho dovuto prendere la palla al balzo perché ho fatto il collegamento los angeles hollywood come potevano andare lì e raccontare quali film sono nati all'interno degli studi di cine città e ovviamente l'abbiamo fatto a modo nostro con diciamo degli scenari che poi sono stati animati all'interno di minecraft all'interno degli studi di cine città c'è la riproduzione della roma rullo di tamburi la serie televisiva rom per esempio e stalla girata esattamente in quelli negli studi di cine città mi piace ricordare quando immagino cine città il penso uno dei film che è considerato un colossal una pietra miliare nel nel settore cinematografico che quando è uscito mi sto riferendo al film ben ur quando è uscito ha ricevuto 11 oscar e ha tenuto questo record fino a quando è stato diciamo messo in seconda posizione da fi dal film e titanic e pensate che soltanto nel 2003 il signore degli anelli adesso non ricordo quale ha eguagliato lo stesso numero di di premi oscar questa è la nostra riproduzione di quell'ambientazione immaginate insomma il divertimento in questo caso anche degli degli adulti quando si parla di non ci può non venire in mente il maestro federico fellini 100 anni fa è nato il maestro federico fellini che tutto il mondo ci ha invidiato e oggi vi voglio parlare del progetto fellini craft avviato proprio per l'istituto luce cine città siamo quasi alla fine dell'avvio dello streaming e progetto in partecipato oltre 170 scuole dei tre ordini scolastici quindi primaria media e anche superiori in cosa consisteva il concorso abbiamo chiesto alle classi immaginatevi seduti sulla sedia da regista pronti per avviare il tuo primo jack sei un regista cosa vuoi raccontarci e a partire da quale set cinematografico e l'hanno fatto con minecraft le finalità del concorso che è nato ripeto per celebrare il centenario della nascita del sono state quelle di stimolare nei partecipanti la consapevolezza e la conoscenza del cinema come arte creativa e promuoverne l'aspetto culturale perché il cinema quando siamo seduti sulle poltrone non non è solo puro intrattenimento ma quando sei seduto sulla dietro la telecamera allora in quel momento che tu provi a metterti inizia la ricerca inizia la creazione della storia e decidi quanto è importante l'ambientazione ecco questo è il progetto che abbiamo avviato per l'istituto luce cine città i finalisti sono stati in vita che si terrà a a fine novembre di da incrociate e lì terremo i nostri laboratori minecraft allora adesso visto che abbiamo parlato di cultura voglio sfidare nuovamente il lo strumento messo a disposizione da uno dei partner di questa iniziativa e proviamo a partire esattamente come abbiamo fatto la volta scorsa vi ricordate lo strumento è sufficiente andare sul con il vostro browser cellulare o punto co slash meraviglie d'italia che vedete riportato a video e abbiamo parlato fino adesso dell'istituto luce cine città vediamo se in questo contenitore di cultura a 360 gradi c'è qualcosa a riguardo io purtroppo lo schermo qua in alto prova a digitare istituto istituto luce cine città e niente pure questa volta abbiamo trovato qualcosa si può ovviamente scorre e andare nel dettaglio poste abbiamo diverse collezioni e fotografie abbiamo appena 30.592 elementi mi sembrano sufficienti a questo punto io direi di tornare no vi lancio una sfida provate a cercare se c'è qualcosa su federico fellini e nel frattempo che passo alla schermata del nostro del nostro minecraft fatemi vedere se riesco a prendere chermata perfetto ci sono eccomi qui mi metto in in terza persona ci sono anche chiara michela patrizia manuele scomparso e allora ci sono sicuramente due novità importanti la prima è che ovviamente dobbiamo effettuare una necessaria e dovuta panoramica ai lavori che ci sono pervenuti la volta in questa settimana e purtroppo alcuni sono arrivati proprio in questi istanti ma e li metteremo li faremo vedere la volta prossima prima li fate giungere sui nostri account social meglio è allora a questo punto necessaria panoramica innanzitutto guardate quanti sono abbiamo completato tutta la parete poi andiamo ad elencarli vediamo qua abbiamo francesco sei anni napoli questi qui che vedete inquadrati dal mio cursore poi a fianco abbiamo flavia istituto comprensivo lentini plesso primaria plesso marconi quinta b laurea potenza queste due immagini qui abbiamo leonardo quarta a istituto comprensivo manziana io ho messo le indicazioni che mi sono giunte poi che era quarta e plesso castellani nettuno roma queste due immagini di che era e poi ce ne dovrebbe essere un'altra qua questa è sempre di che era che mi ha mandato in due momenti distinti e separati poi queste qui sono del mio amico francesco a lumiere roma che mi ha mandato una due tre e quattro immagini poi c'è questa di luna che ha mandato prima un'immagine analogica luna istituto comprensivo nettuno 1 plesso angelo castellani nettuno roma e poi una versione digitale della sua pecora abbiamo le rappresentazioni mondrian di gaia istituto comprensivo lentini marconi lauria potenza poi abbiamo la scritta arcobaleno di giulia sempre quinta b lauria potenza che era l'abbiamo già nominata lauria potenza queste insegnanti cattive che hanno dato questi compiti tremendi questo è tutto il lavoro di mariangela poi vado a fianco abbiamo matteo quarta e castellani nettuno roma nuovamente abbiamo daniele altro arcobaleno sempre di castellani di nettuno qui abbiamo maico terza b il suo comprensivo tolfa plesso di allumiere medie ha fatto tutta questa costruzione in pocket edition ha impiegato tantissimo questa di michele basilicata lauria ha fatto una un mix di tutte le cose che abbiamo detto in un'unica rappresentazione a fianco ancora andrea marconi sempre laurea potenza guardate quante foto ci ha inviato le bandiere la scritta andrea mondrian e poi siamo che andrea si è arrestato poi abbiamo un bellissimo tramonto claudia quarta di nettuno roma sempre del plesso castellani andrà tutto bene andrà sicuramente tutto bene forse italia sicuramente poi siamo forse a metà passeremo tutto lo streaming così ma va bene perché significa che avete apprezzato gli sforzi e noi sicuramente l'abbiamo apprezzato altri tramonti sempre di claudia perfetto sì poi in alto istituto comprensivo gatto prima media battipaglia salerno grazie Sara poi abbiamo cristiano otto anni quarta e castellani nettuno che ci ha inviato questo bellissimo arcobaleno intanto dico ai ragazzi di non essere tanto tanto gentili perché c'è una giuria quindi seguite con attenzione perché devono essere giudicati allora angelo quarta e nettuno allora ha fatto tappeto colorato casa colorata poi c'è anche il soffitto colorato e il tappeto arcobaleno e anche lui è arrivato al soffitto poi scendo in basso i castellani nettuno roma una serie di pecore di screenshot in cui vediamo che le pecore cambiano di colore più faro finale qui a destra Matteo ci ha costruito la torre califa di Dubai grazie Matteo poi abbiamo Marpint nickname in cui ha costruito una costruzione anche tridimensionale poi abbiamo Luciano con una bandiera quarta e castellani nettuno ancora il castellani nettuno e abbiamo Davide un nuovo arcobaleno sul tramonto Lorenzo otto anni che ha reso meno crudele l'ender dragon complimenti poi abbiamo Lucas no Luca detto Lucas sette anni che ha fatto un incrocio tra i vari come si chiamano Pattern e Mondrian bravo Luca poi Fernando questi sono arrivati ieri Fernando anche lui da Lauria probabile sì questo ancora di Fernando vado a destra vado a destra e c'è Greta nove anni nettuno un cuore arcobaleno un quadro Mondrian un voi sapete tutti che cos'è quel quell'esserino con la punta gialla vero l'unicorno poi qua qua il wandering trader che io odio complimenti Gaia per no Greta scusami per i tuoi lavori poi Mattia Quartadì Castellani Nettuno abbiamo quasi finito ma dobbiamo dare importanza a tutti ottimo lavoro Mattia che ha scritto anche il suo nome capolavoro di Giorgio Quinta B Lentini Primaria Marconi Lauria Potenza quindi questo è un quadro in 3D poi c'è questa illusione ottica che vediamo scomposta qua sopra ok guardate questa che è scomposta così e poi c'è questo buco arcobaleno bellissimo poi ci sono anche questi altri lavori sempre giunti da Giorgio ultimo ma non ultimo per ultimo ma non ultimo Edoardo 10 anni Catana Rainbow mandateli alcuni non sarebbero entrati a questo punto io direi di passare alla giuria la nostra giuria purtroppo è un è il peggiore incrocio è il peggiore incrocio possibile allora è un mix tra diciamo Italia's Got Talent e X Factor abbiamo preso i peggiori giurati possibili a questo punto chiede ai giurati di dare una votazione avete 4 pulsanti ognuno il suo Manuel ok per te che cos'è la accendiamo ho visto che ha cliccato qualcosa ah ok perfetto mi sembra che per Manuel il è sì ok quindi per Manuel è passata vediamo adesso Patrizia Patrizia che dice ci sta pensando ci saluta io mi sono messo anche Patrizia per Patrizia sì vediamo per Michela Michela da un'occhiata clicca anche Michela anche per Michela è andata bene è Chiara sicuramente la più cattiva del gruppo che cosa dice Chiara perfetto allora tutti mi sembra che tutti tutti i quadri sono stati apprezzati dalla nostra a questo punto mi sgancio un attimo da questa schermata perfetto perché vi voglio raccontare come avviene l'interazione innanzitutto vi invito a lasciare i vostri commenti della vostra presenza sui canali social che stanno ospitando questa diretta streaming su Facebook Operazione Risorgimento Digitale ed il canale YouTube di Telecom Italia poi vi lascio i miei canali social che vedete qui a video a scuola con Minecraft il canale YouTube e Marco Vigelini Instagram o TikTok lasciate traccia del vostro spassaggio indicandomi quando mi mandate eventualmente i vostri lavori nome nickname città riferimenti non mi scrivete il cognome perché non viene citato anche durante la sessione di oggi vi lanceremo delle sfide di costruzione chi vuole queste sfide le raccoglie e noi cercheremo di dare spazio ai vostri lavori come fatto poco fa come fai a farmela avere completa la costruzione scatta una foto la costruzione e le sfide ve le daremo adesso scatta una foto della tua costruzione poi con l'aiuto dei tuoi genitori mi mandi la foto più rappresentativa della tua costruzione quindi se ne hai fatte sette mandami quelle più rappresentative tramite messaggio di diretto su Instagram per esempio mi mandi queste immagini e io le inserisco in Minecraft se non hai Minecraft per me puoi utilizzare anche carte e colori come ha fatto per esempio Luna oppure mattoncini Lego o delle app simili a Minecraft perché in questi incontri ripeto parleremo di creatività a questo punto ritorno al mondo perché vi voglio far vedere la seconda novità io mi sono perso ah ecco la seconda novità introdotta oggi in Minecraft che è la campanella gli esperti Minecraft già alzano la mano e scuotono la testa ok da tanto che è stata introdotta la campana è vero rispondo io ma infatti ho parlato di campanella la campanella della scuola vediamo o meglio ascoltiamo se la riconosciamo vediamo Manuel no se preme cosa succede ok la nostra campanella perfetto finalmente siamo in una vera scuola virtuale saluto ovviamente i follower del canale youtube a scuola con minecraft e saluterò anche nei prossimi video i ragazzi che commenteranno e cito Matteo Jeremy Mario Rebecca Mano Gamerv Alex Alessandro Danilo Gamerv Studio Fernando e Mario da Napoli dopo l'avvio ufficiale della lezione con il suono della campana direi di riprendere dove ci siamo lasciati passata e chiedo ai ragazzi di seguirmi abbiamo costruito degli oggetti in un unico livello ok oggi cominceremo a dare un po' più di profondità alle nostre creazioni prima però dobbiamo costruire una macchina del tempo ah c'è anche un pipistrello io ti faccio vedere un modo che credo di anche non aver inserito all'interno dei miei video minecraft su youtube vediamo se riesco con il necessario a costruire una macchina del tempo allora faccio un buco due buchi e metto blocco di pietra rossa poi lascio il supporto dell'armatura che sul blocco di pietra rossa si mette un blocco d'oro e posiziono tutto questo mi riprendo dovesse servire mi prendo altri oggetti adesso dovrei avere tutto a questo punto cosa faccio botola di abete uno due e la tiro su poi botola di abete uno due questa è la nostra macchina del tempo e ora scoprirete cosa sto costruendo poi poi no facciamo così questo ovviamente non può stare qui se a me serve qua quindi uno due uno e due uno due uno e due poi serve qualcosa qui davanti che dia l'effetto del pendolo ok sto costruendo un orologio a pendolo perché sono sicuro che l'orologio a pendolo mi porterà nel futuro o da qualche parte allora poi diamo una spinta in avanti alla nostra armatura poi il supporto per il pendolo a questo punto così ok io ho quasi fatto uno due vediamo così questo si lo metto qua ho quasi fatto c'è un problemino che è successo adesso vengo a vedere aspettate fatemi finire dov'è il dipinto eccolo qua dipinto che così mi copre la parte di dietro che è successo aspettate un attimo allora arrivo eh non si trova più Michela ok allora io vedo se questa se questa macchina del tempo funziona no in effetti non funziona ok che è successo entrate qui e non esce più ok andate a vedere andate a vedere pure voi no andate a vedere pure voi se è successo qualcosa chi è Patrizia Chiara Manuel non tornano Manuel ho paura bene vai 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 allora inizia immagino qualche cosa da questo perché non tornano più è successo qualcosa e questa costruzione pseudo tridimensionale dà il via alla nostra avventura grafica vediamo se riesco in qualche modo io sto seguendo un per ok dove siamo ah ok ci siamo tutti c'è anche Michela ok ci siamo tutti ah ci troviamo ah ci troviamo sicuramente molto riconoscibile siamo in Egitto in effetti proviamo a a scendere da questa piramide io ho trovato un leggio ho trovato un leggio e lo leggo allora giorno 1 ho finalmente trovato la grande sfinge inizia oggi la ricerca dell'entrata segreta giorno 6 sembra il diario di Borno non esiste alcuna entrata nella sfinge solo un geroglifico e un enigma sul petto devo riuscire a decifrarli giorno 29 gli indizi conducono a questa piramide devo nascondere qualcosa al suo interno ma cosa giorno 75 qui ci sono solo sabbia e sassi forse c'è un'altra entrata giorno 78 ho trovato un passaggio è troppo stretto non ho forze credo che sia questo qui allora io vado a provare a seguire l'entrata della sfinge voi cercate l'entrata della piramide io provo a correre un po' più velocemente vediamo un po' qua ci sono delle mucche vedo una scala salto mi arrampico al volo allora sono praticamente di fronte alla sfinge però qua vedo soltanto una decorazione non so mi sembra un segno e dei buchi e niente non ho trovato niente siamo entrati perfetto vediamo se io riesco a scendere tanto dovrei essere anche in creativa quindi siamo entrati ok vi raggiungo sono al sarcofago ho trovato uno smeraldo ok prova a raggiungerti se evito di sbattere otto patrizia è dentro il sarcofago perfetto vi ho visto scendere di qui questa mi sembra l'entrata della piramide ok ok io già mi sono perso ma non sembra il percorso del signore che patrizia ecco ha trovato uno smeraldo l'ha trovato qua dentro perfetto quindi qua c'è un sarcofago oddio sono caduto perfetto rip riposa in pace perfetto vedo lassù chiara e michela visto se cado mi faccio male male dove sta emanuel lassù ok ok allora aspetta vado prima da michela sto arrivando michela e chiara eccomi fatemi strada ok chiara michela oh non vi vedo più una a destra e una a sinistra ok chiara seguo chiara cosa c'è qualcosa non c'è niente ah no ah un lapislazzolo vediamo allora andiamo da da michela da quest'altro lato ah michela ha preso un diamante allora teneteli con voi e proviamo a portarli nella sfinge manuel e la sopra proviamo a raggiungere manuel allora provo a saltare vediamo uno e due e via 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 raggiungo manuel ma dove sei? la sopra forte l'idea di un parkour lumache di un parkour all'interno di una piramide no? allora uno due vado piano tre perché qua seccato non dovrei morire però insomma eccoci manuel fai strada ok ok vai manuel metto in super velocità via ok manuel fa strada altro percorso segreto allora una delle sfide è la costruzione della macchina del tempo ok ah qua siamo secondo me siamo sulla strada giusta è una diciamo ripeto è la costruzione della macchina del tempo quindi ahia qua no però non mi sembra la strada giusta ah forse di qua si di qua vado dritto no strada persa di qua ah ok vai manuel ah questo è il è il segno non vi vedo siamo arriveremo è lo stesso segnale che c'era icona che c'era nel e c'è un un blocco d'oro allora proviamo a tornare nella sfinge perché quel quel segnale quell'icona era esattamente dove ahiaiaiaia stiamo tornando indietro era esattamente nella sfinge quindi chi sta già giù cominciasse ad andare verso la sfinge perché secondo me i blocchi che abbiamo preso ci servono allora io adesso provo un salto doppio lo sapevo meno male che ero in creativa allora sono sceso saltando eh patrizia eccoci io sto andando via vi ho superato allora raggiungetemi io vado veloce saltando andiamo a vedere se i blocchi che ci hanno che hanno trovato patrizia e michela manuel e chiara funzionano qua ok allora io non ho blocchi particolari vai chiara prova a mettere il tuo quindi la pizzo lo no ah michela vai tu col diamante diamante no patrizia allora guarda manuel secondo me è proprio il tuo perché nel tuo vediamo un po' vai prova a mettere il tuo nel tuo c'era anche quel simbolo ok vedi un po' ok perfetto allora siamo entrati perfetto allora entriamo dentro la sfinge entriamo dentro la sfinge io provo a scendere comunque così secondo me ci potrebbe essere anche una sorta di maledizione magari io adesso sono in creatia però magari qualcuno ci può mettere in sopravvivenza da un momento all'altro guardate che panoramica dall'alto siamo all'interno della della camera segreta che l'esploratore non aveva trovato io sto scendendo chiara è già saltato ok vediamo cosa cosa leggo qui allora vediamo prendo questo leggeo celata è la via all'occhio che non sa leggere negata lo è a chi non ricerca il sapere sono ecco sono adesso in sopravvivenza vediamo se mi faccio spazio così questi me li prendo perché secondo me ci possono tornare utili a chi possiede la chiave è concesso entrare ah è ok chi ha la chiave ok qua vediamo dei leggii leggio leggo vediamo cosa dice il nilo il nilo è un fiume africano lungo 6.852 km tradizionalmente considerato il fiume più lungo del mondo il nilo bianco il nilo azzurro alla fine il nilo si virama in una grande delta e sfocia nel mar mediterraneo allora secondo me conviene leggere ragazzi voi esplorate perché se troviamo qualche altra cosa Ramses II regnò per 67 anni e spesso ricordato come il più grande potente e celebrato faraone dell'impero egizio io mi prendo anche questo questo leggio no il documento delle gioie Anubi il dio della mummificazione dei cimiteri protettore delle necropie e del mondo dei morti me lo prendo vieni qua ok guardate che bella rappresentazione sembra una sfinge ci sono un sacco di segni infatti allora Ra il dio sole trasporta ogni giorno il sole così il ciclo delle stagioni lo scarabeo sercolario è noto come l'insetto del sole previa della palla di sterco che trasporta ogni giorno allora secondo me questa potrebbe essere una rappresentazione forse lì c'è il sole no? ho quasi finito direi che ho finito faraone saracerdoti scrivi questa sicuramente è la la scala sociale Marco sono qui in altro dove sei? ah lassù c'è un altro indizio ok fatemi arrampicare fatemi arrampicare vado da Patrizia ah ok allora c'è anche un segno ecco perché l'occhio di Horus ti osserva dall'alto eh ok l'occhio di Horus ti osserva dall'alto allora là mi sembra che c'è qualche cosa un occhio sembra c'è qualcosa lì e illumina quella colonna io provo a scendere e vado verso mi dirigo verso quella colonna sì guarda 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 dove sta andando mano c'è un altro segno allora quella infatti indicava proprio là vediamo un po' cosa dice questo leggio l'insetto del sole illumina il sentiero l'insetto del sole illumina il sentiero eccolo lì quello è l'insetto e ci sta illuminando sta illuminando verso destra eh si è illuminato vedete quella quella lampada ci dice di andare da quella parte eh da questa parte io non trovo niente però c'è una scala là c'è una scala c'è una scala qui 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 eccola qua sì 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 ok c'è una scala perfetto ma io non ci arrivo non ci arrivo di qua di qua ok perfetto allora la conoscenza è la scala che porta alla vetta perfetto vediamo perché è una scala la conoscenza che porta alla vetta perfetto perché ci sono dei blocchi ora siamo pronti per seguire le indicazioni ricevute oddio ah ho sbattuto non non era finita la scala saliamo qui ancora io spero di non cadere come ho fatto prima esplorazione sembra di essere Indiana Jones ok qua però è chiuso di qua di qua stiamo costeggiando è praticamente il perime piano che qua c'è c'è una scala qua stiamo costeggiando la camera segreta della sfinge altra scala qua piano andiamo su andiamo su andiamo su perfetto ah qua è quello oddio stavo cadendo via stavo cadendo siamo sulla strada buona perfetto via via io soffro di vertigini cerchiamo di rimanere sul sentiero perfetto certo che chi ha costruito questo passaggio segreto diciamo deve avere impiegato parecchio e guardate che visuale dall'alto oh mamma ok vedo il soffitto sembra sembra di essere arrivati sull'uscita a chi abbandona le mie profondità che succede? che succede a chi abbandona le mie profondità? ah mi hanno ridato la creatività che fa anche rima è vero eccolo qua sono in creativa perfetto allora siamo nuovamente in creativa e siamo all'interno di un palazzo magnifico allora vi abbiamo portato all'interno di una vera e propria avventura grafica basata su un determinato periodo storico spero che lo abbiate riconosciuto gli antichi egizi tutto ciò che avete visto può essere sicuramente ampliato e maggiormente dettagliato mi riferisco per esempio ai vari testi che abbiamo letto per l'occasione li abbiamo un po' ristretti mi metto F5 così in modalità li abbiamo un po' ristretti all'essenziale però cercate di immaginarvi le potenzialità di questo strumento all'interno di una classe laddove la storia che si va a vivere l'hanno preparata pianificata e costruita proprio i ragazzi poi mi lascio un attimo così perché vi volevo raccontare dell'avventura della prima sfida provate a costruire la vostra macchina del tempo quindi non so quale costruiresti tu una gira tempo quella di Harry Potter una clessidra la macchina di ritorno al futuro se non conosci la DeLorean chiedi ai tuoi genitori una navicella spaziale oppure una capsula del tempo ok F5 e a questo punto io dico che siamo arrivati in questo palazzo e proviamo ad esplorare questo palazzo innanzitutto ero in creativa sì ok allora guardate quanti elementi si ripetono vi ricordate la lezione della volta scorsa ce n'erano altri anche all'entrata vediamo se riesco ad andare velocemente all'entrata ecco guardate che sono anche semplici giallo e blu giallo giallo e rosso giallo e blu giallo e rosso eccetera ok anche guardate questa la piramide sociale dell'antico Egitto questi simboli e ora ovviamente andremo un po' a dettagliarli come vengono chiamati questi questi segni particolari vediamo ce n'era uno mi sembra proprio qui dove sta Manuel no questo qui ok sono dei geroglifici i geroglifici erano comunemente usati sui monumenti perché dovevano rimanere eterni quindi sulle colonne come là sopra per esempio al tempo non c'era google translator per tradurre i geroglifici quindi o avevi google translator oppure dovevi essere un sacerdote e a londra a londra ed esattamente al british museum si trova una pietra che ci ha permesso di tradurre e comprendere i geroglifici io vado qua in alto perché so che c'è anche un'altra rappresentazione sto parlando della stele di rosetta che è conservata al british museum che praticamente riporta lo stesso testo in tre differenti scritture il geroglifico il demotico e il greco antico praticamente il geroglifico e il demotico sono immaginate la calligrafia la stessa scrittura della lingua egizia solo che il geroglifico veniva utilizzato sui monumenti sulle statue il demotico sui documenti antichi sui documenti ok grazie alla diciamo all'intuizione e al ritrovamento ovviamente di questa della della stele di rosetta francese Jean-François Champollion e qui diciamo sfodero tutto il mio i miei studi di francese grazie alle sue capacità di tradurre il greco con una vecchia lingua antica dell'egiziana riuscì a tradurre piano piano i vari geroglifici poi inizieremo adesso a costruire ma voglio sicuramente citare uno dei musei più importanti è sicuramente il più importante al mondo il museo egizio di Torino il museo più importante al mondo secondo solo a quello di il Cairo del Cairo che sta ovviamente in Egitto se avete tempo quando vi capiterà di andare a Torino andate a visitare quel museo quindi adesso ispirandoci ispirandoci alle ambientazioni di oggi io direi che incominciamo a costruire delle piramidi quindi invito i ragazzi a costruire qualche piramide e incominciare a far a lavorare di immaginazione primo diciamo idea che vi voglio dare è quella di costruire una piramide avendo come base dei propri del proprio lato un numero dispari di blocchi quindi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove va bene perché in questo caso la diagonale viene molto bene uno due tre quattro cinque sei sette otto nove vi faccio vedere cosa intendo vado un po' velocemente ok e provate anche a costruire altri tipo quella per esempio Aztega ok facciamo così proviamo incominciamo andare in alto ok partendo da queste costruzioni oggi incomincieremo a costruire in maniera tridimensionale e a darvi anche delle idee per incominciare a costruire tridimensionalmente in Minecraft ora per esempio a me viene in mente questa idea no ho fatto una piramide in questo modo e ne faccio un'altra capovolta vediamo se riesco ok perfetto immaginate di costruire le vostre sfide anche immaginandovi le piramidi in 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 mille senza anche Manuel la sta facendo così perfetto così dovrei aver completato la base ok a questo punto potrei riprendere e costruire di nuovo una piramide poi quante 1 2 3 4 vediamo qui questa è una piramide una piramide scomposta possiamo anche in effetti in effetti incominciare e questa sarà una delle novità che vi faremo vedere nelle prossime sessioni intersegare gli oggetti quindi 1 2 3 4 5 facciamo 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ok immaginiamo di dover costruire una piramide più grande e una più piccola a fianco avrei potuta mettere esattamente di fianco della piramide grande ok ma quando incominciamo a scomporle certo di questo colore non si ma quando incominciamo a metterle su piani differenti l'effetto ottico incomincia ad essere migliore allora Manuel mi puoi dare una mano a costruire questa una piramide un po' più grande perché a partire da questa piramide vediamo se fino a qua dovrebbe essere giusto vi voglio far vedere come costruire in maniera diciamo tridimensionale e utilizzare le caratteristiche che erano proprio degli egizi anche degli egizi che abbiamo ritrovato in questa in questo Manuel sei velocissimo io faccio solo un lato forse sarà perché parlo no forse sarà perché sei più veloce basta che abbiamo ritrovato in questa in questa ambientazione dell'antico Egitto ok sono più bravo perfetto ok così vediamo se riesco ah no ma è che io sto facendo destra-sinistra ora recupero allora così perfetto salgo e torno indietro torno indietro e faccio prima altro che ok questa è una piramide molto molto ampia immaginate appunto di creare immaginatevi di creare le vostre ambientazioni in questo caso vi stiamo chiedendo appunto una piramide se la fate decisamente grande questa piramide al suo interno ha parecchio spazio vedete ok all'interno potete costruire delle camere segrete come abbiamo fatto per la sfida che abbiamo intrapreso oggi e eventualmente anche un parkour vi torna? ci stiamo calpestando i piedi con anche un parkour come abbiamo fatto all'interno della sessione di oggi quindi più grande la fate più spazio avrete queste sono delle piramidi a base ma non è ti conviene uscire se no non ok questa è una piramide a base quadrata l'abbiamo completata ora che le ragazze finiscono io intanto vi voglio far vedere come per esempio adornarle mi metto accedo al mio inventario cerco no voglio calcestruzzo vediamo calcestruzzo ok prendiamo il giallo giallo cambiamo un po' questi le g che non mi dovrebbero servire anche arancione e verde allora perfetto allora immaginate di avere questi semplici diciamo decorazioni ok e incominciate a costruirle sopra la vostra piramide ma no l'arancione è inutile prenderlo non si vedrebbe mai ma costruitela però in in un'ottica differente allora facciamo 1, 2, 3 guardate sto costruendo questo qui questa sorta di pacman ok per chi lo conoscesse ok 4, 5 poi mi sembra che ci sono gli occhi così sto ricordando adesso vado a vedere mi sembra che ci siano rimasti forse quella sorta di piedini ok così così e così ok già costruito in questo senso ok l'effetto ottico della tua costruzione è decisamente differente ora vado a costruire questo giallo dall'altro lato per esempio vediamo se lo posso costruire qua ma ho preso il posto chiaro va bene anzi la costruisco qua perché farò anche una specie di entrata 1, 2 e 3 ok poi è così poi ci sono 1, 2 e 3 1, 2, 3 4 e 5 mi sto riferendo a questa immagine qua ok questa poi scendo e dovrebbero esserci soltanto questa sorta di ok di blocchi che quando distruggo questi mi simulano completamente l'entrada ok vedete come invece di costruire diciamo in maniera piatta il tutto abbiamo già dato una certa dimensione allora nel frattempo che io finisco anche quella cosa si a costruire un geroglifico un'altra delle sfide che vi lanciamo mi metto così un'altra delle sfide che vi lanciamo è quella di costruire i vostri geroglifici ma lo facciamo sempre in maniera diciamo differente rispetto alla volta scorsa cioè sfruttando il concetto del basso rilievo quindi Manuel prova a scavare qualcosa ok anche sì perfetto così adesso vedremo che mano a mano che si avanza io adesso inquadro questi piccoli geroglifici così quando rivedrai il video magari metti pausa e basta fare dei piccoli buchi ravvicinati al tutto e vedrete come le vostre le vostre qua aspettate se no le vostre costruzioni prendono nuovamente forma a questo punto ero rimasto a costruire questa parte ok la volta scorsa cos'è che abbiamo fatto abbiamo fatto così ok siamo andati io chiamo in maniera piatta a costruire il tutto ok ora dobbiamo andare in profondità ok questa figura qui che abbiamo rappresentato vediamo se riesco a farla velocemente forse se parto dal basso è meglio così non mi sbaglio che abbiamo fatto così così 3 4 forse anche 5 perfetto ok vedi così 2 e 3 2 e 3 forse questo era meglio che lo lasciavo ok quella che abbiamo fatto così la volta scorsa la puoi costruire la puoi costruire in questo mondo questa scenari questi scenari sono quelli che danno l'effetto a tanti dei miei mondi minecraft ovviamente qua magari l'altezza la faccio più alta ok anche la costruzione però il concetto è esattamente lo stesso andiamo a vedere Manuel che cosa ha fatto ok a me è venuta in mente per esempio una cosa in questo momento allora voglio prendermi la lana però lana lana voglio prendermi la lana rossa perché stavo vedendo la diretta dello streaming mancano 5 minuti ma ce li faremo abbondantemente bastare ma potremo andare anche leggermente lunghi a questo punto guardate un po' 1 2 3 4 5 ok ma i geroglifici non erano per esempio non potevano essere dei loghi del tempo guardate qui eh sto riproducendo visto che mi è scappato l'occhio sulla diretta il logo 1 2 qua il logo di team guardate un po' sotto forma di geroglifico provate anche a costruirvi il vostro logo sia su queste colonne quindi provate a fare delle colonne ampie guardate questo che ha fatto Yara ok potete anche colorarli oppure evitare di colorarli vedete questo qua questo effetto qui funziona comunque eh da questa parte eh guardate questo di Michela per esempio vedete l'effetto no Michela ha fatto una sorta di tartaruga così questo qua per esempio se viene anche avanti boh forse c'ha senso forse no però come da tridimensionalità al tutto inquadro anche questi di disegni grafici da da rappresentare ok forse ci sono altri di qua o sono gli stessi no mi sembrano differenti ok ora proviamo a fare per esempio dei geroglifici anche cioè dovrebbe essere una una torre pronta per essere costruita sotto forma di murales quindi provate a scrivere sotto forma di murales M di Marco ma in in corsivo no tipo così forse anche troppo grande ok la lascio così oppure dei segni particolari per dire no allora tutto questo che stiamo facendo ok può essere annoverato anche come visual storytelling perché se io qua dovessi costruire per esempio una una navicella spaziale vediamo se riesco a costruire una navicella spaziale vediamo uno due facciamo così uno due ovviamente sotto forma di geroglifico molto molto con molta immaginazione ok chi si trova in questo mondo magari può immaginare alieni se vedesse ovviamente un qualcosa per cui no c'è una faccia del genere beh probabilmente potrei essere pensieroso addirittura diciamo così non avrei alcun dubbio che il mondo in cui sto entrando potrebbe essere pericoloso in questo modo invece magari con un bel sorriso probabilmente dove sto entrando sto entrando in un mondo per esempio di pagliacci divertente a questo punto le sfide che vi lanciamo sono provate a costruire qualcosa guardate qua Chiara e Patrizia e Michela cosa hanno costruito per esempio una piramide capovolta no scusatemi un trono sulla piramide a stega quindi con una base più larga sono saliti di poco come in questo caso qui a destra poi proviamo a dare a questo punto un po' di profondità a queste strutture quindi poi se volete potete continuare a diciamo a decorare la parte mi sto riferendo ai ragazzi di questi portali io intanto vi faccio vedere l'effetto che si può dare diciamo dando un po' di profondità mettendo in avanti dei blocchi agli oggetti che abbiamo in precedenza costruito in maniera piatta per esempio il colorare in questo modo con questi blocchi questa struttura a destra c'è quella piatta a sinistra c'è quella diciamo a cui sto cercando di dare un po' di profondità vediamo se porto fino a qua provo a collegarlo ok quindi il concetto che nelle costruzioni della volta prossima provate a costruire in maniera tridimensionale cioè portando fuori o dentro in questo caso stiamo portando dentro ma nel caso per esempio dei murales ok portando dentro idee le vostre costruzioni è sufficiente costruire per esempio una casa una casa e adornarla con questi con queste decorazioni ve le inquadro un'ultima volta perché siamo quasi di ritorno ok provate a costruire le vostre case oppure una caverna trovate una montagna una caverna gli fate un buco per entrate e sopra mettete in maniera tridimensionale ok che si appoggi ok il queste costruzioni che vi ho fatto in maniera tridimensionale spero spero che arriveremo a costruire qualcosa del genere come questo che sto inquadrando questo io mi riferisco come tridimensionale cioè dobbiamo portare fuori questi blocchetti minecraft ok la volta scorsa l'abbiamo fatta mettendoci in piatto ok adesso proveremo ad andare in profondità l'effetto del del portale adesso chiedo ai ragazzi di seguirmi per esempio in cui si svanisce è stato creato con il calcestruzzo nero ok qua io ho creato un pulsante al cui interno sotto c'è un command block poi magari ne potremo parlare ma ne parlo sicuramente sul canale youtube a scuola con minecraft il canale youtube chiudendo tutta questa zona ok con del calcestruzzo nero io simulo completamente il buio adesso lascerò diciamo un po' di luce così quando entreremo qualcosa avremo però da lontano da chi si osserva in questa un portale buio entrando provo a camminare ok ovviamente adesso c'è la luce io clicco su questo pulsante e mi ritrovo nella nostra scuola provate anche voi ragazzi in attesa del dei ragazzi che si collegano a questo punto a questo punto siamo andati un po' oltre 12.01 vi ricordo allora le sfide su cui vi abbiamo cercato di di sfidare allora macchina del tempo una macchina del tempo che sia la la macchina del tempo di harry potter oppure che sia una clessidra andate a chiedere cos'è la delorean ai vostri genitori e vi ricordo i nostri canali social che sono li vedete a video sotto quel personaggio che c'ha quella specie di cravatta a forma di spada minecraft stampata in 3d che sarei io marco vigelini su instagram e su tiktok e mandatemi lì come messaggi diretti privati le vostre gli vostri screenshot altra sfida una colonna con geroglifici una colonna o dei o un murales quindi una colonna diciamo tirata per a terra provate a creare delle piramidi con questa sorta di entrata particolare oppure se avete dei mondi vostri provate a appoggiare quelle costruzioni che vi ho fatto vedere costruite sopra le piramidi a questo punto direi che è l'ora di suonare la campanella io aspetta che mi metto così che voglio inquadrare Emanuele che suona la campanella e non appena finisce la campanella noi purtroppo ci dovremmo salutare ma vi ricordo di seguirci sul canale youtube dell'iniziativa che ci sta ospitando che è quello di telecom group seguite sul canale facebook l'iniziativa operazioni risorgimento digitale che ringrazio nuovamente Emanuele secondo me adesso è arrivata veramente l'ora della merenda suona la nostra campanella e noi ci ritroviamo tutti insieme mercoledì prossimo allo stesso orario io adesso metto in pausa minecraft passo alla mia schermata diciamo iniziale e scollego il tutto e ciao a tutti